Ciao a tutti, sono Micaele, un discepolo del maestro Denis Brechevats dalla Russia. Ho studiato varie arti marziale, sia orientale che occidentale. Per me il Salat Luna è una vera arte marziale, gente dinamica, molto flessibile, molto intelligente. Anche Nassantara è una scuola unica perché è in tutti i stili provenienti da diverse regioni dell'Indonesia. Nassantara è una vera perla dell'arte marziale, non solo in penca. E Masdenis è un maestro, un insegnante con una lettera maiuscola, che è un'enorme fortuna di incontrare. Masdenis mi ha insegnato che la fratellanza e le relazioni umane sono più preziosi di qualsiasi denaro. E ho trovato una tale relazione nella nostra scuola. E ho trovato una scuola.